Il rione Venezia ha vinto il Paglio Marinaro 2011 di Livorno, gara remiera a mare aperto che si svolge nello specchio d'acqua compreso fra il porto e i bagni pancaldi, secondo classificato il rione Pontino San Marco e terzo Borgo Cappuccini. Il Paglio Marinaro si svolge tradizionalmente con due gare, quella dei gozzi a 10 remi, con sedili fissi e timoniere a cui partecipano 8 rioni, e la gara delle gozzette, imbarcazioni più piccole a 4 remi aperte agli altri 8 rioni. Per la categoria segnore delle gozzette quest'anno ha vinto Shanghai Fizzitorretta, per la femminile Montenero e per il mini Paglio ancora il rione Venezia. Il vincitore della gara delle gozzette ha diritto a prendere parte al Paglio Marinaro vero e proprio in sostituzione dell'ultimo classificato fra i gozzi. Le imbarcazioni, complessivamente, coprono un percorso di 2.200 metri con tre virate spettacolari che esaltano la preparazione degli atleti e l'intesa fra i rematori e il timoniere, e rendono difficile anche fare pronostici sull'estito della gara.